Una sofferenza, ma avevi ragione tu anche prima? Beh, non siamo in Sassuola, l'anno scorso l'abbiamo fatta in B e ci siamo confermati in A. Devo dire che siamo riusciti, paradossalmente, con un giornato in meno a salvarci a raggiungere obiettivo che ci eravamo prediciato a inizio stagione, con grande soddisfazione. Grande merito a questi ragazzi, grande merito a questo gruppo e anche io, che è un po' più importante. Tu sei andato via, ti sei ricaricato e sei tornato nel momento giusto, forse col piglio giusto.